ciao a tutti e bentornati con una volta su indie gameplay ita oggi siamo su drive for survival e vi introduco una piccola novità dato che spesso mi avete chiesto di fare altri video questo mi sembra un gioco molto interessante ricordo molto the long dark ma anche altre cose dovremmo sopravvivere comunque basandoci anche sul mezzo di trasporto ripararlo farne la manutenzione trovare dei rifugi riscaldarci insomma un bel survival ho deciso di fare questo piccolo ban dove vi chiedo se vi interessa vedere un altro episodio di mettere il like a cento like farò un altro video ovvio che se cento like li raggiungiamo tra sei mesi non ne farò un altro ovvio deve essere una cosa a breve termine il like da visibilità al canale non mi ero mai focalizzato sui like ma soprattutto evita quelle situazioni in cui tanti mi chiedono un secondo video per non solo guarda nessuno insomma cerchiamo di focalizzare bene i video su cose che interessano realmente lo andiamo a provare costa 20 euro è uscito il 15 di ottobre costa 20 euro prezzo pieno per in realtà lo si trova anche a 16 iniziamo andiamo a esplorarlo un pochino insieme mi intrippa molto questo titolo quindi ho deciso di farlo così lo iniziamo all together il gioco solo in inglese during sleep ok 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 quindi il gioco resterà in early access mentre carica bene parlo resterà in early access per un anno e mezzo due anni però al momento ha già tutte le features a livello base quindi nel senso che ha già tutto quindi in una cosa che dovranno che non sono ancora abilitate da quello che ho letto siamo nell'autopost 103 un posto di molti rifugi e case troverò più sì più un luogo più sicuro qui che in altri posti new hope since dal 2012 quindi dal disastro del 2012 graficamente sembra carino però lo proviamo insomma si parte dalla qui con questa mega nebbia cerca vicino agli alberi e rocce dobbiamo trovare le risorse ok quindi credo che non si troverà un auto al momento però graficamente mi piace a parte la nebbia che vediamo se magari c'è modo di a livello grafico di cambiare qualcosa ma non credo perché siamo già a livello massimo quindi niente c'è la nebbia sarà nebbia davvero allora f take prendiamo prendiamo un po di roba cerchiamo le cose legna è molto molto figo quello che ho visto perché comunque si gira anche con il mezzo di trasporto con la macchina bisogna farne la manutenzione praticamente io ho adorato giochi come the long dark ma soprattutto my summer car quindi io spero in un mix tra i due dobbiamo trovare fibre e del piante e che ne abbiamo recuperato una sola che è quella sorta di piantina che si trovava lì allora con la i apriamo l'inventario diviso tra backpack le risorse le armi le armature i nostri parametri di sopravvivenza quindi la vita la fatica la fame la sete il calore le abilità che sono queste abilità di guida combattimento crafting e raccolta il crafting portatile che ci consente di craftare le cose senza bisogno di una workbench molto ma molto interessante tutto questo intanto continuiamo ad avanzare perché dobbiamo trovare delle fibre il gioco ci sta guidando in modo molto easy quindi vediamo poi questo è un gioco che si presta sicuramente per altri gameplay quello di sicuro perché non si può vedere tutto poi magari io mi mi intrippo ci gioco un sacco e un secondo video lo faccio comunque però vi ricordo sempre i cento like richiesti per questo video che comunque aiutano anche la visibilità del canale ringrazio oltremodo anche gli sviluppatori per avermi permesso di fare questa cosa o la grande muraglia qua ok niente abbiamo una un muro che non ci consente di uscire da questi confini sembra una una prima zona dove dovremmo andarcene dopo come diceva il l'outpost 101 è una sicurezza dove oltre il quale non ci sono posti sicuri quindi non è bellissimo da vedere questo questo corso però vabbè è un inizio quindi iniziamo a raccogliere come ho detto c'è già ci sono già tante cose quindi ok sono un pirlone io perché erano le fibre erano questi questi cespuglietti gialli allora adesso andiamo a craftare usando backpack apparendo il backpack è cosa che dice di craftare un accetto un accetta quindi accetta con il mouse selezioniamo la quantità ne facciamo una sola clicca col destro e craft ok un posto che ti aiuterà come rifugio prima che tu costruisca il tuo rifugio personale la tua casa è interessante molto interessante va bene molto interessante ma dov'è questo rifugio ok abbiamo l'accetta accetto l'accetta vai alla watchtower beh tanto qua il posto abbastanza circoscritto quindi la dovremo trovare facilmente vai alla watchtower e ripara le scale avrei bisogno di abbastanza legno ma qua c'è un elicottero precipitato ma me ne frego a dobbiamo abbattere gli alberi vabbè intanto saliamo qua e proviamo ad abbattere anche un albero e spero di trovare un auto presto perché è una delle features che mi interessano di più allora watchtower dov'è la watchtower va bene intanto ok albero cade ok molto interessante take take non precipiti giù ok ne battiamo anche un altro dai per sicurezza così almeno eccola la watchtower trovata beh non voglio farmi trovare impreparato quindi mi raccolgo un po di di legname che viene scaraventato via fortunatamente almeno qui non ci sono non dobbiamo trasportarcelo a mano i tronchi ma ci stanno in modo molto realistico nello zaino e non che sparati via ma devo dire che mi sarei aspettato forse qualche glitch in più per quanto riguarda gli alberi invece normale allora ripara la scala danneggiata beh qua si riesce a salire comunque comunque vabbè ripara not item a ok me lo posso mettere lì in alto a destra come obiettivo f riparo la scala molto bene andiamo su ci sarà un'altra scala rotta no molto bene c'è bisogna fare tutto il giro sì c'è una porta immagino a qualche parte sì eccola qui f open e siamo in casa apri la mailbox vicino a te e raccogli la bussola eh però la mailbox era di sotto forse beh diamo un'occhiata tanto la bussola è molto importante perché ok ok qua possiamo raccogliere gli item ok ben preso la bussola ehm apri la craft session del tuo e spendi il tuo primo crafting point per imparare le ricette e fare un campo base un fuoco base quindi ehm dove si va a fare il crafting qua spendi un punto per il ok infatti qua vedete che abbiamo il craft point possiamo andare a fare il campfire quindi lo apprendiamo rapidamente abbiamo il campfire ah possiamo questo ce l'abbiamo già qua invece dove c'è il punto possiamo imparare a fare la bottiglia d'acqua e i bendaggi ehm mentre lo sleeping bag ok vabbè intanto abbiamo un punto craft ehm il ok dobbiamo craftare quello hai bisogno di una pietra puoi trovarlo vicino alle rocce o gli alberi no ma va bene ce l'ho già allora craftiamo il questo col tasto destro intanto abbiamo le pietre e poi ah cioè praticamente piazzalo in una location conveniente ok ecco e ah ok figo posso piazzare tutti i progetti che ho con questa cosa lo metto qua non ho gli item necessari cosa mi chiede ah ce ne sono qua lo ruoto ah ok infatti vedete che possiamo fare tutti gli item iniziali dal waypoint il campo base grande il campo base piccole possiamo fare solo questo perfetto ora abbiamo bisogno ma dovremmo già averli nello zaino sì abbiamo i fiammiferi e della carne eh grezza quindi prendiamo del legno ne abbiamo ne servono 3 ne abbiamo 52 abbiamo fatto bene prima tengo premuto F accendo il fuoco molto bene e ora cucina craft ah posso purificare l'acqua l'acqua non si cura no faccio la carne clicco col destro e mi crafto la carne perfetto eh per ora non sarai solo nemici iniziano ad apparire no da ora non sarai solo nemici cominciano ad apparire la home zone è più sicura degli altri eh ma devi gradualmente rendere sicuro le zone fuori va bene e ci viene dato un fucile così dal nulla molto interessante eh uccidi i nemici usa il tuo fucile e neutralizza i nemici va bene ok stiamo imparando quindi non ci daranno subito un'auto presumo quindi eh anche perché il titolo si chiama Drive for Survival quindi dobbiamo guidare per spostarci quindi ci mi aspetto anche dei delle delle zone parecchio grandi eh non vedo nemici però c'è qualcosa giù là vedo una luce qualcosa quindi presumo ci sarà qualcuno infatti eccoli lì eh mi apposto bisogna capire se sono zombie se sono cose la bussola intanto vedete è comparsa sotto sono zombie molto bene basterà un colpo in faccia molto bello il sistema di di sparo mi piace quello che dice il tutorial è non sparare ad cazzum ricarica con vabbè intanto i zombie spariscono ok ancora arrivo no è sparito ripara l'elicottero ripara l'elicottero intanto qua mi da una zona di prendo le fibre no c'è qualcosa che mi indica qui ma vabbè la casa viene indicata lì quindi potete vedere il luogo la temperatura non mi sembra così calda forse però vediamo abbiamo ricevuto i materiali necessari ora possiamo andare a riparare l'elicottero adesso restiamo un attimino in attesa e mi erico all'elicottero appena possibile e lasciamo questo mondo credo eccoci all'elicottero ci veniva indicato anche sulla mappa scrap metal ce l'abbiamo quindi ripariamo l'elicottero puoi viaggiare attraverso il mondo con l'elicottero per andare in spedizione e valutare e per trovare validi materiali grezzi quindi se avrà possibile vai usa l'elipad travel ok viaggio vediamo ma è fighissimo dove andiamo andiamo qui ah si posso scegliere vedete c'è un luogo innevato c'è l'home ok e c'è anche questo terreno qua la forest voglio andare nel ghiaccio c'è una macchina lì ma vabbè facciamo questo dai andiamo nella foresta almeno non mi sembra così diciamo estremo come luogo rispetto a ok era notte ormai giunta la notte the forest zone questa location come la tua casa è una delle poche location nel mondo che non sono afflitte dall'apocalisse della neve non significa che sia salvo insomma che sia sicuro il pericolo ti aspetta a ogni angolo specialmente di notte e il freddo globale si riflette qui piuttosto bene quindi ok non c'è la neve però è un posto brutto 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 è molto particolare non mi aspettavo questa suddivisione diciamo in zone esplorabili però poi torneremo all'helipad ok c'è uno shelter qua c'è già un un rifugio ok e qua possiamo tornare all'helipad per riviaggiare e andare via salve lei vende munizioni? sì lei vende munizioni e vende anche cose ma io al momento non credo di avere che posso vendergli roba ma vorrei anche acquistare ma non ho crediti quindi mi tengo quello che ho al momento non ha senso che io gli venda roba va bene andiamo a vedere cosa c'è qua c'è un inquietante barra sotto anzi sì che si è formata con l'energia la fame la sete il calore bene vabbè intanto diamo un'occhiata c'è un duct tape insomma un un qualcosa che possiamo prendere si può dormire è notte quindi magari dormiamo otto ore che sono sì dai dormi su parimento sotto il letto dormiamo per sicurezza vabbè ci svegliamo ed è giorno fantastico c'è una radio che possiamo accendere no i diritti della musica molto bella ma me l'ascolto quando gioco da solo grazie oh porca porca sì no ok il fucile l'ho ricaricato io aspetto che combattano tra di loro perché anzi in basso a destra vedete anche i i colpi ok diciamo che mi è andata bene perché perché l'orso è morto in tempi brevi in questi giochi di sopravvivenza il l'orso è sempre qualcosa di molto minaccioso ma anche il lupo insomma questo è il lupo di mascia e orso mi lasci la carne tu? no sì no lui mi lascia la pelle molto bene non abbiamo ancora auto però non vedo zone non vedo zone ricoperte diciamo da quel muro invisibile bruttissimo tra l'altro che si vedeva prima prendo un'ascia di metallo che trovo qua potrei accendere un fuoco ma non lo accendo perché non ne ho bisogno al momento non vedo di avere bisogno di mangiare anche se forse sì voglio esplorare un po' vediamo un po' save game perché in un salvataggino non lo farei trova veicoli trova una batteria trova zip ties che non so cosa siano quindi devo trovare un po' di roba allora seguo il percorso sotto il motel sulla strada è possibile esplorare vecchie auto e raccogliere gli item necessari ok ok stiamo andando a esplorare la strada e andremo probabilmente a ottenere la nostra prima auto per poter viaggiare questo sembra appunto come ho già detto un terreno piuttosto aperto rispetto a prima e scendi dalla strada io scendo dalla strada dove tanto l'ami indica l'elicottero quindi cerchiamo delle auto dove recuperare i duct tape insomma e tutto il resto allora lì c'è un orso che io eviterei no ma mi ha visto due orsi ok uno è andato uno scappa no uno è morto adesso muore anche il secondo ok si giustamente comunque dopo sei colpi di fucile uno se lo aspetta lascia non sia carne che pelli ottimo raccolgo altre bacche e continuiamo la nostra percorrenza qua dovrei trovare un pozzo anche per bere perché questo cos'è niente proseguiamo c'è qualcosa là in cima non mi piace questa nebbiolina devo dire altrimenti abbiamo un posto qua da esplorare e abbiamo anche un sacco di cose da trovare quindi andiamoci vediamo cosa c'è qui non abbiamo neanche tanti colpi cioè abbiamo una trentina di colpi quindi diamo un'occhiata qua cosa c'è ci sono dei rottami di auto e un orso iniziamo con calma abbiamo piedi di porco che ci sono stati dati in quanto oggetti non so dove eccoli qua i piedi di porco ogni volta che ne usiamo uno apriamo qualcosa viene rimosso e quindi possiamo accedere a questo che ho preso e non so cosa ho preso ma non era niente la spazzatura uno due tre uno due tre sei colpi ci vogliono per uccidere un orso vabbè e ce n'è un altro c'è la poterosi dell'orso qua vabbè ho recuperato qualcosa che però non era valido era una spazzatura quindi continuiamo a esplorare e vediamo se è un altro crowbar anche qui recupero materiali scrap ok quello che ci serviva vedete che abbiamo recuperato tre su venti veicoli scrap spero di trovare anche dei colpi a breve perché sennò qua non reggiamo non resistiamo molto ok allora un altro crowbar open engine 4 e anche la batteria ok abbiamo recuperato continuiamo c'è un camper apri il camper ma vorrei anche capire cosa è questa roba comunque vabbè abbiamo trovato soldi a livello 4 possiamo sbloccare l'inventario ah non si può entrare che palle però che sono questi orsi qui ok stiamo prendendo anche una no questo no un'ottima quantità di cibo però via di crowbar fascette ambulanza vediamo cosa dentro vabbè ma non abbiamo finito di esplorare la stazione di servizio perché di roba ce n'è ricorda molto anche tipo un wild cos'è un wheel criote ok fortunatamente solo due colpi quanta violenza in questo gioco crowbar fiammiferi prendiamo un sacco di roba abbiamo già siamo già comunque messi piuttosto bene ma questo qua è una citazione questa è una citazione col cappello da ranger così a the walking dead vabbè posso prendere ok con lo shift si recupera tutto c'è dentro qualcos'altro qua registro di cassa recupera tutto prendi frecce metal asset ah ok no abbiamo già tutto quello che ci serve vediamo un attimo se metal asset io voglio buttarla questa vorrei buttarla non so devo un pochino farci la mano col gioco però vabbè acqua acqua cibo per cani e vabbè ragazzi si mangia quello che si può qui è già aperto uh c'è un motel qua classico motel americana acqua si può dormire la pubblicità di driver survival veramente una una chicca eh your weapon backpack is full devo capire come cacchio si buttano via le cose metal asset arrow ma eh ah più shift scrap ok mi prendo la pistola di cui ho un po' di colpi oh mi piace già di più la pistola molto interessante mi piace vi dico la verità mi sta piacendo questo gioco qua eh ammo box recupera le frecce no non poi sicuramente le frecce saranno utili open barrel una carota vabbè saranno utili le frecce per non fare rumore però ah scusate ma c'era forse una scala di qua no devo capire come entrare lì ma fatta bene la scala comunque il fatto che comunque non vi fa un'animazione pessima a scalare non è male ammo box recupera tutto le frecce non ce ne può fare di meno allora 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 andiamo di sopra vediamo cosa c'è sembra sembra tremendamente figo questo medical prendi tutto cosa che dice eh your backpack is full medical box no direi che possiamo bere l'acqua no bevila 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 fammi vedere come si fa a bere drink col tasto destro ah l'acqua rimane vuota ma che spettacolo butta butta prendi la medical box prendi questo che non so cosa sia ah show ah cos'è water purification tab ah ok un crover mamma mia che bello sembra mi ricorda molto anche unturned eh si qua ci siamo già stati c'è un una sedia qui insomma non so cosa sia ma si riesce ad entrare vetro una scatola con fiammiferi io ho un problema perché si sa mai che salto e mi abbasso se riesco a no open siamo aperti la porta ultima stanza medical box con delle erbe e la radio ogni radio è sintonizzata su una stazione diversa ok direi che funziona bene anche questo grazie per le pelli abbiamo anche qui una porta ah ma dove eravamo prima ok allora allora abbiamo ehm vehicle scrap mi mancano quelli mi mancano quelli abbiamo fatto tutto vehicle scrap ma non ne abbiamo quindi dobbiamo andare avanti per la strada e sperare di trovare dei rottami di automobile ok ok altri 4 ce ne mancano 9 possiamo aprire anche il retro di solito qui si appunto si trova roba medica il taxi soldi soldi e cos'è questo scatoletta di sardine dovrei forse buttarla dovrei buttarla e buttare la roba del cane insomma la scatoletta del cane allora quello che io stavo sbagliando prima è che ho aperto il baule ma dover aprire anche il cofano delle auto oltre che il dietro per trovarci all'interno ovviamente parti di auto che sono quelle che mi servono ok l'ho capito fortunatamente prima di andare via e quindi lo facciamo vediamo un attimo qua dietro cos'ha e poi dato che sta arrivando notte io rimarrei qui in questa zona cercando di dormire in una delle stanze qua del motel sperando sia sicuro anche perché come il gioco ci dice di notte diventa tutto molto 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 pericoloso abbiamo raggiunto ah go to home zone sì sì però ci andiamo di giorno quindi adesso mi piazzo in una stanza l'unica senza il materasso sì ok e dormiamo sleep per 8 ore ci sveglieremo di notte probabilmente sì perché sono le 4 quindi vorrei dormire altri no 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 non voglio dormire otto ore svegliami a mezzogiorno e vabbè vabbè ci siamo svegliati a mezzogiorno bene ragazzi ora Dobbiamo tornare a casa Tornare all'elicottero Usando l'helipad E ci rivediamo tra pochissimo Eccoci qua nuovamente all'helipad Abbiamo trovato un altro commerciante Acqua possiamo mettere la roba Commerciante che ci vende un po' di roba Un po' di cose Magari l'acqua la vende a un prezzo assurdo Io ho mangiato delle bacche Mentre tornavo indietro Ma adesso me ne frego Torno a casa A casa c'è il pozzo Quindi bevo a casa Allora travel Torniamo a casa E vediamo Che cosa succede ora Perfetto Grazie al funzionale elipad I nuovi sopravvissuti sono arrivati lentamente Insomma è arrivato il commerciante Alcuni commercianti tuttavia Vabbè La tua macchina è finalmente stata trasportata Sicuro Quindi Quindi Qua abbiamo tutti i commercianti Di là abbiamo l'helipad Ah ok questa è adesso la nostra base Ok Scrap metal Ah puoi costruire un garage Questa è l'auto L'auto che va Scusi No Eh che cacchio Vabbè Allora questa è l'auto Dicevo Possiamo riempirgli il carburante Possiamo guidarla Che al momento non va Perché ovviamente Non ha carburante Va riparata E poi qua Deve essere riparata E quindi Qui Ok abbiamo riparato tutto Dobbiamo rifillare Il carburante Eh che non ho idea Di come fare Ci servirà il garage Probabilmente Qua beviamo Ok Abbiamo rifullato Come si usa dire Mangio anche la carne Che secondo me Potrebbe anche andare Ma ha male Se non la lascio lì Troppo tempo Vabbè dai Siamo messi in che piuttosto bene Quindi Di cose Ne abbiamo viste parecchie Questo è lo store Dove Delle risorse Possiamo comprare Da questo tizio Per coltivare Dei semi Di roba da fare Ce n'è Veramente Questo gioco Questo gioco È veramente Veramente Figo Tanto figo Beh ragazzi Centro mi piace Andiamo avanti Facciamo così Adesso Tenete voi i pensieri Like Allora ragazzi Io Voglio vedere Un interesse Nel gioco Così almeno Sono sicuro Che faccio il video Non solo per me Ma anche per voi Dove Trovare la benzina Quindi a sto punto Diciamo che Fatemi sapere Che cosa ne pensate Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.